Torna la paura a San Calogero dove giovedì sera cinque malviventi armati di un fucile a canne mozze sono entrati nell'abitazione di un 85enne del posto, Domenico Preiti. L'anziano una volta immobilizzato è stato derubato di circa 1000 euro in contanti, frutto della sua pensione. I rapinatori si sono poi rapidamente dileguati facendo perdere le proprie tracce. L'episodio riportato questa mattina dalla Gazzetta del Sud ha fatto ritornare alla mente la tragica tentata rapina ai danni di Isabella Raso. Poco più che cinquantenne, sempre di San Calogero, la donna morì la notte tra il 14 e il 15 luglio del 2011, quando tra i rapinatori entrati nell'abitazione in cui viveva da sola, nel tentativo di immobilizzarla, la soffocarono con un panno trovato in casa. Immediata la reazione dei carabinieri dopo l'ultimo episodio, il comune del Vibonese è stato infatti setacciato alla ricerca dei responsabili e le indagini sono estese anche ai territori limitrofi. Ennesimo fatto criminoso, quello di giovedì scorso, che va ad allungare la scia di rapine registratasi nel Vibonese, alla quale si cerca di porre un freno con l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, di fronte tuttavia ad una criminalità sempre più spregiudicata e Spavalda. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.